Duro scontro per ora solo sui social network fra la CIS Monza Brianzalecco e Andrea Monti, assessore alla sicurezza del comune Brianzolo di Lazzate, nonché consigliere provinciale della Lega Nord. Al centro del contendere il possibile arrivo nel borgo del Monzese di alcuni richiedenti asilo, scelta che Monti non condivide nel modo più assoluto. La querelle è scaturita dopo che il segretario generale della CIS Brianzola Rita Pavan ha criticato un post contro l'arrivo dei rifugiati pubblicato dall'assessore sul proprio profilo Facebook. Nel replicare la Pavan, Monti, secondo la CIS, ha poi utilizzato insulti e insinuazioni prive di ogni infondamento che il sindacato ritiene lesive. Non è accettabile, si legge in una nota, che la CIS e la sua responsabile delle province di Monza e Lecco vengano accusati da Monti di fregarsene dei migranti che muoiono. Nella sua replica, la Pavani, leghista, sostiene inoltre che gli immigrati giungano in Italia perché, rivolgendosi direttamente alla CIS, sono attirati dalla vostra rete che vi fa fatturare miliardi. Una rete che rincara la dose Monti, di nuovo chiamando in causa il sindacato, fa bene ai vostri bilanci grazie ai soldi sporchi di sangue che ricevete dallo Stato. Frasi che la CIS ritiene inaccettabili. Come può un politico che fa parte delle istituzioni, si chiede al sindacato, scendere a questi livelli e lanciare gravi accuse senza alcun fondamento. Sfidiamo Monti a dimostrare quanto sostenuto e a dimostrare che la CIS fattura miliardi sulla pelle dei richiedenti asilo e che faccia parte di qualche strana rete o abbia mai ricevuto anche un solo euro da chi che sia per i rifugiati. Contro le affermazioni del consigliere leghista, il sindacato minaccia di adire alle vie legali, mentre dal suo blog Monti controbate. Questa è una incredibile macchina del fango contro il sottoscritto, sostiene leghista, con una violenza verbale e determinazione tali che a prima vista emergerebbe addirittura un carattere quasi intimidatorio del comunicato, quasi lo scopo fosse quello di limitare la liberazione politica.